Siamo con Claudio Leandri, direttore generale di Molini Pivetti. Qui a Cibus presentiamo in particolare alcune linee di prodotto su cui l'azienda sta puntando. Ci vuole fare qualche esempio? Sì, direi innanzitutto noi abbiamo una linea che si chiama Gran Riserva, che è la linea di filiera certificata che viene prodotta nei campi degli agricoltori che lavorano con un disciplinare particolare che è imposto da Pivetti, che si chiama disciplinare campi protetti Pivetti. Tutto grano non solo italiano ma grano emiliano che proviene dalle province di Bologna, Modena e Ferrara e sul quale vengono garantite dei disciplinari di produzione molto rigorosi per quanto riguarda l'uso dei pesticidi, della coltivazione eccetera. esiste sia nella versione biologica che non biologica e rappresenta l'attenzione di Molini Pivetti verso la qualità della materia prima che è uno dei due punti fondamentali con cui Molini Pivetti cerca la qualità dei propri prodotti. L'altro è quello che riguarda l'innovazione, cioè le modalità di lavorazione della materia prima per arrivare a dei nuovi prodotti. Tra i nuovi prodotti sicuramente quest'anno quello più importante che presentiamo in filiera è il Triticum che rappresenta un'evoluzione della macinazione a pietra, cioè un tipo di macinazione che pulisce il chicco di grano dalla scossa esteriore, lasciando però intatto lo strato leuronico, che è quello più ricco di vitamine, di sali e minerali e che quindi riesce a mantenere sul prodotto finale la farina a un livello nutritivo, proteico e vitaminico particolarmente interessante, lasciando il prodotto più naturale possibile. Queste sono le due novità importanti che presentiamo al CIBUS, fermo restando il nostro impegno generale sulla qualità sia delle materie prime che delle lavorazioni industriali che facciamo. Distribuite i vostri prodotti in tutta Italia, quali sono i vostri mercati di riferimento principali? Noi distribuiamo i prodotti in tutta Italia e anche all'estero e lavoriamo principalmente con la grande industria del bakery, ma lavoriamo anche molto sul canale food service, quindi con i professionisti, pizzaioli, panificatori eccetera e lanciamo in questa fiera al CIBUS, lanciamo anche una linea dedicata al mondo retail, quindi in particolare la grande distribuzione con 14 referenze divise su tre linee, every day, gran riserva, campi protetti e special day che sono tre linee che vanno dal prodotto più tradizionale a quello più innovativo pensate per il consumatore, formati piccoli, 1,750 grammi, 500 grammi, alcune di esse sono in flow pack e in atmosfera controllata proprio per dare anche il massimo livello di servizio al consumatore e garantire la durata del prodotto e la qualità del prodotto fino alla fine della sua shelf life, quindi fino alla scadenza del prodotto stesso.